L'ipersonnia nell'adulto, sintomatologia e diagnosi, tardiva? Sì, purtroppo spesso è tardiva, nel senso che molti adulti si rendono conto di non avere abbastanza energia durante il giorno, si sentono stanchi, affaticati, poco concentrati, magari anche distratti, e nelle forme più estreme sono anche incapaci di mantenere la vigilanza sostenuta, soprattutto quando, e lì si confessano in maniera molto innocente, dicono io vado, 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 ma quando mi rilasso, mi trovo in una condizione di minore impegno motorio e intellettivo, ecco che mi cade il cuore e mi addormento e chi vive con loro, un familiare, la moglie o il marito, conferma che c'è questa tendenza ad avere questa doppia valenza, attivi quando si può essere attivi, ma molto molto fragili e vogliosi di sonno quando si è lasciati un attimo in pace. E questo deve diventare un piccolo segno di interesse, una sentinella per chi magari ascolta questi pazienti, magari anche il medico di famiglia o lo specialista a cui queste persone magari si rivolgono e dice ma io sto bene, se vado, se non vado mi appisolo. E questo è un elemento che non deve essere sottovalutato. La causa principale è quando hai dormito male per molto tempo, un periodo stressato, per lavoro, per impegni familiari, per malattie. A volte anche i farmaci stessi, prescritti in maniera forse troppo disinvolte, poco attento sugli aspetti della vigilanza, possono dare questo fenomeno che alla fine non va sottovalutato perché può diventare pericoloso, perché se sei seduto in casa non succede niente. Se sei seduto dietro un volante e stai andando a 150 km all'ora sull'autostrada, forse è meglio essere un po' più prudenti. Grazie.